Andrea Staide, buonasera. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole. Noi ci si ritrova qui ogni volta per il Festival della Grande Invasione, vero? Assolutamente sì, infatti avevo avuto già il piacere di chiacchierare e discutere con lei. E quindi anche quest'anno Andrea Staide è nostro ospite con estremo piacere per raccontare alcuni degli incontri di questo Festival della letteratura di Ivrea, ha giunto la non-edizione, ricordiamo quest'anno, la grandeinvasione.it per prenotare il vostro posto perché Andrea Staide si ritorna a fare quella cosa. Si ricorda un tempo quando c'erano i festival, ci si ammassava uno vicino all'altro, oggi non sarà più così, ma comunque si ritorna a vedere l'ospite in faccia, e non davanti a uno schermo solo. Sì, assolutamente, in presenza. Io farò tre lezioni, io e tutti gli altri ovviamente faremo le lezioni tutte in presenza. Questa è una cosa molto bella anche perché io sono reduce anche oggi, come ci dicevamo, fuori trasmissione dalla didattica a distanza, quindi passo le mie giornate a fare lezioni senza vedere nessuno, ma vedendo soltanto il mio device e invece finalmente si torna in presenza. C'è da dire che la grandeinvasione è stato uno dei pochi, non l'unico, ma uno dei pochi grandi e dei festival italiani che già l'anno scorso ha fatto un grande sforzo per portarci in presenza, perché comunque l'anno scorso hanno sposticipato, ma in estate siamo riusciti a fare le nostre conferenze, le nostre lezioni, i nostri dibattiti, tutti in presenza, in sicurezza, ovviamente, e con tutta la capacità del caso di capire il momento storico che stiamo vivendo. Dice poco Andrea Stai di capire il momento storico che stiamo vivendo, forse lo capisce l'antropologia, forse lo capisce la filosofia, forse la politica, è tutta una concatenazione di forse, forse tra l'altro è anche il titolo di un libro che andremo a presentare prossimamente qui nel posto delle parole, è una parola importante, anche per lei la parola forse Andrea Stai. Forse ci salveremo, speriamo, sì sì, è una parola assolutamente importante, diciamo che l'ultimo anno e mezzo ci ha fatto capire proprio a tutti come è importante avere dei dubbi, quindi dubitare creativamente e cercare di trovare delle soluzioni proprio da questi dubbi, da queste crisi per riuscire a costruire dei nuovi corpi sociali. riuscire a costruire dei nuovi corpi sociali e forse anche attraverso una lezione, un incontro a un festival come la grande invasione venerdì 28 maggio, sabato 29, domenica 30, alle 9.45, gli appuntamenti con l'antropologia. Ma come si può spiegare l'antropologia a un pubblico di un festival? Sappiamo che in Italia i festival dell'antropologia, lo ricordiamo per esempio, Dialoghi sull'uomo a Pistoia che tutti gli anni noi seguiamo. Ecco, però l'antropologia è una parola che ancora intimorisce Andrea Stai. Ma io su questo sono invece positivo e ottimista, devo essere sincero, nel senso che ho notato un grande interesse in questi anni per la parola antropologia e per la pratica antropologica, nel senso che io mi sono ritrovato veramente in tanti festival a fare delle lezioni, delle lezioni di antropologia, chiaramente nel modo più divulgativo possibile, più aperto al dibattito, alla discussione, però io mi ricordo appunto sia i Dialoghi sull'uomo di Pistoia, dove sono stato ospite ormai un po' di anni fa, al teatro con tutti questi studenti delle scuole superiori, non soltanto che erano veramente estremamente interessati al lavoro dell'antropologo e delle antropologhe. Anche quest'anno in didattica a distanza ho ricevuto tanti inviti a parlare di antropologia proprio, non soltanto della mia ricerca specifica, ma di antropologia. Il festival della grande invasione ormai sono tre anni che mi dà spazio per questo e mi dà spazio con un pubblico veramente interessante, attento e propositivo. È uno dei festival dove ho trovato più riscontro, devo essere sincero, proprio a livello di dibattito anche fuori e dopo l'esperienza del palco. E quest'anno cercherò di portare proprio il pubblico che comincia a conoscermi un pochino meglio, il pubblico di Brea, in quello che è il mio percorso di lavoro, il mio percorso, la mia antropologia potremmo dire, e quindi su quello che poi è anche la mia recentissima pubblicazione, perché è appena uscito che è la casa vivente, quindi cercheremo di capire antropologicamente che cosa significa la casa, cosa significa abitare in questo mondo, in queste città contemporanee, cosa significa ecologia, ecologia sociale, quali sono le nostre possibilità. Però a proposito di casa vivente, Andrea Stai, il libro pubblicato da Di Di Editore, editore di Turino tra l'altro, l'immagine che vedo in copertina è un'immagine di estrema delicatezza e fragilità, non è una palafitta, però è qualche cosa che ti fa vedere che la vita è una fragilità, dunque il sottotitolo del suo libro, riparare gli spazi, imparare a costruire, questo riparare e imparare sono due verbi strettamente connessi. Assolutamente sì, io per citare un amico filosofo che ci parla della fragile umanità, Leonardo Caffo, sono convinto che la fragilità sia qualcosa di importante da riconoscere, come è importante capire la fragilità del nostro ecosistema, i limiti che abbiamo e che per troppo tempo avevo fatto finta che non ci fossero, noi ci siamo creduti in questo progresso senza fine, quando invece la terra è finita e anche la nostra esistenza ha a che fare con la finitezza. L'immagine di copertina è stata commissionata proprio da una bravissima artista che si chiama Manuela Mapelli, voleva rappresentare, chiaramente è molto difficile, però con un solo, con una l'inolografia in questo caso, che poi è stata riprodotta sulla copertina, la fragilità come qualcosa di positivo, una fragilità che significa che la casa nasce, cresce, ma bisogna anche stare attenti a non farla morire. Eh sì, bisogna stare attenti a non farla morire, ma qual è Andrea Stein? Perché sembra a volte qui nel posto delle parole, proprio perché di parole noi viviamo in questo appuntamento, no? Sembra di essere ogni tanto qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice ci scrive, sì, però voi siete molto teorici, però ci vuole il pensiero, ci vuole la parola e poi ci vuole giustamente l'azione, come diceva un certo disorgimentale. Ecco, qual è una cosa molto pratica che noi possiamo fare per imparare a riabitare meglio? Ecco, qui sono contento di questa domanda perché quest'anno la novità, diciamo, che io porto nel mio modo di fare le lezioni per la grande invasione ci sarà anche tanta pratica, tante esperienze pratiche, nel senso che non volevo fermarmi soltanto a una riflessione teorica che è importantissima, ma sono convinto che se la teoria non va alla pratica in effetti rimane un po' sterile, la pratica può andare alla teoria e quindi diciamo che se la prima lezione sarà un approfondimento teorico sul senso dell'abitare, già dalla seconda cercheremo di fare proprio il giro del mondo attraverso quelle che sono le architetture vernacolari che ho avuto la fortuna di abitare in questi dieci anni di viaggi e etnografie, quindi guardando a chi anche vive in modo differente da noi per trovare degli esempi, delle possibilità, delle ibridazioni possibili nel nostro modo di tutti i giorni e poi, come dico sempre, dei viaggi io ho sempre fatto il ritorno a casa e quindi racconto anche come è cambiata la mia vita grazie all'incontro con l'alterità culturale, con chi è diverso da me e quindi l'ultimo incontro parla proprio di una beccedaria del cambiamento, cioè piccoli esempi, piccole mutazioni quotidiane che ci possono portare a vivere meglio e soprattutto a non distruggere più il pianeta che ci ospita e tante piccole cose, non so se abbiamo il tempo adesso di approfondire questa cosa… Lasciamo i nostri ascoltatori quando saranno presenti in lezione a questo punto, andiamo semplicemente per suggestione Andrea Staida, però io volevo parlare di… mentre diceva questo mi è venuto in mente che noi dobbiamo pensare a tutto questo cambiamento perché ognuno porta giustamente, come quando giochiamo a Lego, ognuno porta il suo mattoncino a costruire e costruire in maniera razionale, quindi io devo pensare questa cosa, ma oggi, me lo dica lei che studia antropologia ogni giorno, oggi forse non basta più pensare, forse c'è bisogno di qualcuno, se è una domanda banale abbia la convicienza di dirmelo, forse c'è bisogno di qualcuno che ci insegni a come pensare. perché io vedo ogni volta quando mi siedo sulla sedia e guardo i dibattiti televisivi, io penso che tutta questa bella e brava gente sappia dire molte cose, ma non ci dimostri quanto è importante il come pensare. Sì, assolutamente, come pensare e come agire anche, io credo che devono essere delle risposte che poi troviamo anche assieme collettivamente confrontandoci, ma come dicevo prima sono convinto che bisogna oltre a saper pensare e fare proposte, bisogna anche saperle mettere in pratica e quindi non separare troppo quello che prima citava anche lei dell'azione, dell'azione che parte proprio dalla teoria. Questo è un po' la parte che mi ritrovo d'accordo, ma credo che c'è proprio bisogno da una parte di una pedagogia del pensiero e quindi un sapere insegnare a pensare liberamente e dall'altra anche concretizzare questi pensieri e quindi passare dalle teorie a dei fatti, a dei cambiamenti, appunto a delle mutazioni culturali reali e una delle ricette secondo me interessanti è smetterla anche di autoassolversi come soggetti, dando la colpa sempre a qualcun altro. Io credo che Camus aveva una grande ragione quando ci parlava nell'Uomo in rivolto del fatto che se noi come soggetti ci rivoltiamo possiamo costruire comunità e questo io credo che sia uno dei suggerimenti da seguire. Andrea Stai, però se lei ci dice in questo suo saggio che bisogna imparare a riparare e costruire, bisogna imparare anche a utilizzare le parole, perché oggi il pensiero di Albert Camus che lei ci ha appena esposto è un pensiero importante, ma noi oggi la parola rivoluzione pensiamo che sia andare sulle barricate, ma oggi come oggi la parola rivoluzione ha un significato diverso, deve averlo. Sì, sicuramente, più che altro quando Camus parla più che di rivoluzione Camus ci parla di rivolta, quindi di come rivoltarsi allo status quo come soggetto può farci riconoscere in comunità, quindi non tanto della rivoluzione, la presa della Bastiglia o comunque il palazzo d'inverno. Qui stiamo parlando proprio di una questione che ha a che fare anche con un cambiamento che parte dall'individuo per arrivare alla possibilità comunitaria, per questo credo che sia importante rileggere Camus, sicuramente è importante anche saperlo interpretare con il contemporaneo che ci circonda tutti i giorni. Diamo appuntamento allora ai nostri ascoltatori e ascoltatrici alla grande invasione per prenotare il posto per le lezioni antropologiche di Andrea Staide, però prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni in realtà sto leggendo un libro per lavoro, che però mi ha preso tanto tempo, che è un libro che stiamo pubblicando come il tema editore che è la vita sociale delle cose, è un libro curato da Arjun Appadurai, che è uno dei più grandi antropologi di questi anni. E ben volentieri noi lo racconteremo perché la vita sociale delle cose ci attira, mi fa venire in mente il filosofo Remo Bodei, con il quale molto tempo fa abbiamo conversato sulla vita delle cose, se non ricordo male come titolo del suo libro, ma forse non era esattamente quello, ma il rapporto tra noi e le cose non è semplicemente un aspetto filosofico, ma un aspetto vero di vita, di vita vissuta. Grazie, grazie ancora Andrea Staide, buona serata. Grazie mille, buona serata a tutti.